Questo è il record per il momento più rapido di andare a subito e a subito 10 stai, balancando qualcuno sul cuore, mentre si è scoperto. Attenzione, ovviamente non si devono più reggere una volta che uno si è messo sulla testa dell'altro, dovranno aprire le braccia, guardate, impossibile. Sessanta secondi, silenzio, silenzio, silenzio. Devono scendere i gradini, adesso devono, silenzio, tornare su al contrario, silenzio. In sessanta secondi. 30 secondi. Siamo passati 30 secondi. Piano, 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 piano. Ok. Sofia, sentiamo se hanno impiegato sessanta secondi. Sofia, let me on above. Ciao. Complimenti ragazzi. Allora Sofia. The record to beat was 60 seconds. Il record to battere è 60 secondi. In your attempt, you got a total of... 53.97 seconds. Eccolo qua. I nostri... Jack Roberts. David, ti consegna il certificato allo Guinness World Records. Eccolo qua. Bravi, bravi, bravi. Complimenti ragazzi. Guardiamo in slow motion. Questo momento, quando sono tornati indietro, beh, è pazzesco. Grazie. Grazie.